Decine di volontari del WWF Roma, universitari e studenti delle scuole superiori, si sono dati appuntamento in questo tratto di banchina del Tevere, all'altezza del Ministero della Marina, per rimuovere i rifiuti abbandonati tra la fitta vegetazione. Abbiamo raccolto un po' di tutto, plastica, vetro, c'era una bicicletta di là, veramente qualsiasi cosa, ed è un vero peccato perché rappresenta proprio il degrado delle aree verdi di Roma. Quest'area, considerata un ecosistema spontaneo, è importante dal punto di vista didattico e ambientale. Speravamo nella risposta della Regione Lazio, già anni fa, per l'istituzione di un monumento naturale. Torniamo oggi a riproporla, sappiamo che questa è la strada che ci aiuterebbe a garantire la posizione per tutti i cittadini di un posto che è veramente straordinario all'interno della città. Una richiesta, quella del WWF, raccolta dalla Regione Lazio. Due, le strade tecnicamente percorribili. O chiamare il WWF in commissione per un'audizione e quindi poi successivamente fare una risoluzione di commissione, oppure presentare un ordine del giorno che riesca a rifar partire il processo di istituzione del monumento naturale e poi dare la gestione in carico al WWF.